Non ho più il ministro dell'odio e quindi piano piano ce la possiamo riprendere questa Italia e soprattutto possiamo ancora chiedere uguaglianza, diritti, pari dignità il movimento resti avanguardia, vi prego sapete che io sono iscritta a tante associazioni sono iscritta a Famiglia Alcol Baleno, sono iscritta ad Arci Gay sono iscritta a Mario Mieli ma da militante vi chiedo di rimanere avanguardia chiediamo anche a questo nuovo governo quello che la Costituzione prevede per noi cioè l'uguaglianza, sfidiamoli io spero che questo governo ci dia le risposte che aspettiamo spero che questa nuova maggioranza alla quale appartengo voglia rispondere al movimento dando il riconoscimento pieno dell'articolo 3 della Costituzione quindi continuate a lottare, restiamo uniti, restiamo insieme ma non ci fermiamo One Pride e poi come già dissi alla senatrice Cirinà lo scorso anno a Pompei ce l'aveva scritto nel DNA perché Cirinà fa rima con Carrà ragazzi ragazzi stanno arrivando dei treni pienissimi di persone non ci fermano